il muesli che vi propongo oggi unisce cereali e frutta energia e freschezza colore e gusto una ricetta smart veloce e intelligente per quando ci svegliamo pronti per un sano detox mattutino se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video amici se vi interessa questo argomento preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra muesli in tedesco significa mescolamento purè è un mix di cereali semi noci e altra frutta secca e o fresca accompagnato dal latte vaccino o latte vegetale yogurt succhi di frutta pronti per una colazione tropicale muesli di mango e avena colazione vegana per due persone un mango due cucchiai di fiocchi di avena 150 ml di succo di mango tre cucchiaini di mirtilli americani essiccati cranberries due cucchiai di anacardi 1 tagliare la frutta tritate finemente i mirtilli americani cranberries sbucciate il mango togliete il nocciolo tagliate la polpa a dadini 2 mescolare frutta e cereali mescolate i cranberries e mango con i fiocchi di avena e gli anacardi unite il succo di mango versate in due tazze e aggiungete a piacere latte o ancora meglio latte di soia riso avena mandorle e adesso gustatevi il muesli con avena cranberries anacardi e mango colazionissima i suoi pregi principali depurativo antiossidante e dimagrante proprietà degli ingredienti il mango è un depurativo un dimagrante un rimedio anti stitichezza che abbassa il colesterolo in india il mango è il re dei frutti e simbolo dell'amore ecco come si prepara i cranberries sono diuretici astringenti tonificanti rifrescanti sono anche antiossidanti e infiammatori i fiocchi d'avena sono cereali con proteine grassi insaturi e vitamina b hanno la maggiore concentrazione di fibre e sali minerali gli anacardi abbassano il colesterolo cattivo e regolano la funzionalità intestinale favoriscono il senso di sazietà per conoscere altre ricette di buone colazioni per iniziare bene la giornata guarda la mia playlist dedicata per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano mangia consapevole e vivi meglio